Ciao a tutti, alza l'asticella, fai volare la tua autostima, diventa una persona di valore. Basta aspettare un messaggio, smettila di soffrire per amore. Dai rapidamente una svolta significativa alla tua vita, spezza le catene con le persone sbagliate, inizia ad amare te stessa, fai volare la tua autostima. Conoscerai il linguaggio della seduzione, l'espressione delle emozioni, il linguaggio che è oltre la logica, che ti permetterà di entrare in relazione con chiunque. Seguimi sui miei canali Massimo Taramasco, Felicità Benessere, Crescita Personale, Amore Autostima. Ciao a tutti.